Chi non ha mai sognato di volare nello spazio? Sarebbe bello navigare nel Sistema Solare, osservare da vicino pianeti e satelliti, vero? Beh, in un certo senso si può fare, e restando comodamente in classe. Come? Con un visore per la realtà virtuale. Indossa il VR e parti con noi alla scoperta degli anelli di Saturno, e non solo. Affronteremo da una nuova prospettiva anche le leggi della termodinamica applicate al flusso sanguigno e dei grafici bi e tridimensionali. Studieremo fisica e matematica in un modo nuovo e divertente, che coinvolgerà anche chi di formula e non ne vuole proprio sapere. Risolvere problemi ed esercizi sarà un gioco. Promesso!